Ma sai usare una telecamera? No. Meglio il cellulare? Sì. Io mi chiamo Alessandro Antonelli, io tengo 16 anni. Hai letto il cartello a mira per i ragazzi di 16 anni? Come? Non l'ho già letto? Quanti anni hai? Mi hanno 23 anni. E perché stai facendo questo provamento? Perché stai facendo senza fare niente. Quando tu hai tre anni fa, mi trovavo più sicco. Ho provato la gemica, hai già la verità. Ma perché vuole fare l'inchiesta come faccio la televisiva? Proseguono le indagini sulla morte di Davide Pipporco. Il successo è stato uscito da un carabiniere a Napoli, nel rione... Questo è un processo che fa la formica contro l'elefante. Noi siamo la formica, è stato l'elefante. Vanno sparato e è morto. Vado qui. Vado qui. Ma tu ti piace? Vado qui. Vado qui. Vado qui. Vado qui. Vado qui. Vado qui, ma la stanza è il bosso. E tu fossi il bosso? Ehi. Ma secondo te, è possibile, è il quartiere di ricco. Se potessimo venire ad abitare qua? Ma ovviamente, è impossibile. E poi ci gaiete, non si può essere mai il mese. Vado qui. 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 Vado qui.